Il rischio c'è e non è così lontano. I veterinari in servizio presso le ASL o comunque negli enti di medicina pubblica sono pochi, anzi sono sempre di meno. I veterinari della ASL svolgono diversi servizi, per chi non lo sapesse, dai controlli negli allevamenti, nei macelli e a tante altre cose, quindi delle funzioni essenziali per il benessere animale ma anche del cittadino, ovviamente della sicurezza anche alimentare. Siete pochi però, avete fatto diversi appelli ma al momento? Nessuna risposta, purtroppo queste carenze che nell'immediato e poi anche considerando l'età dei veterinari in servizio si manifesteranno in maniera ancora più evidente, creeranno un vuoto. Un vuoto con danni per la zootecnia, per gli operatori perché non riusciremo più a garantire quelle che sono le nostre attività quotidiane. E quindi chiediamo un intervento urgente da parte dell'assessore che malgrado le mail e le PEC che sono state inviate non ha risposto. E quindi chiediamo questo intervento e abbiamo proclamato lo stato di agitazione. Noi abbiamo chiesto anche l'intervento del perfetto per eventualmente fare una procedura di raffreddamento e quindi cercare di evitare lo sciopero, perché lo sciopero oggi è un'arma che è l'ultima da utilizzare e noi vogliamo risolvere i problemi, sicuramente non vogliamo creare altri problemi agli operatori. Noi attualmente abbiamo un solo concorso in sanità animale che è stato attivato, è stato bandito qui dall'AS di Pescara, ma il concorso in igiene della produzione degli alimenti zootecnici non è stato ancora attivato, nel quale abbiamo la carenza più grave perché è quello che va a coprire i mattatori e tutte le attività produttive. Quanti siete? 125 a fronte dei 156 che eravamo fino a pochi anni fa e ogni anno perdiamo almeno 20 unità e quindi nell'arco di pochi anni, in cinque anni andrà in pensione un terzo dell'attività lavorativa. Abbiamo un mattatorio che macella alle 4 di mattina e adesso, soprattutto nel periodo natalizio e di Pasqua, ci sono dei mattatori che lavorano 15 ore al giorno, quindi con dei turni di macellazione massacranti. Quindi è logico che senza personale non riusciremo più a garantire. Quindi gli operatori avranno un danno. Grazie. 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 Grazie.